Buongiorno ragazze, vi piace questa scuola così com'è? Così com'è no. E allora di questa scuola che cosa che vorresti cambiare? Magari il parfezzo del infarto secondario. E cosa ne pensate dell'ingresso secondario della scuola? Secondo lei sarebbe più opportuno che gli alunni entrassero da quel ingresso anziché l'ingresso da cui entrano attualmente perché risulta più pericoloso. Al di là della sicurezza, come cambieresti quest'area della scuola? Inserendo spazi per i ragazzi ricreativi e aggiungendo tavolini e panchine in materiale digitale. Grazie.